ok bene a tutti ragazzi oggi farò un tutorial su come fixare il problema del crash di fifa una volta che avete collegato il vostro account di facebook ora vi faccio vedere un attimo di cosa sto parlando aspettate un secondo che chiudo ok ok apriamo intanto fifa scialdi tranquilli vole ok ecco non era ciò che volevo vabbè sta partendo sta connettendo al server sempre con la velocità ok vedete vi fa questo e automaticamente fifa crescerà cosa dovete fare aprite il gioco di nuovo sempre con il tempo i tempi e ai suoi tempi sto telefono ok ma avviate aspettate quanto dovete aspettare fate connetter al server una volta arrivato qua cosa dovete fare andare qua disattivare la vostra rete wifi o connessi stati andare su tocca per continuare ok una volta fatto ciò riattivare la rete ok ritirato il premio che fate quello che dovete fare e dovete connettervi e su riprova il gioco ottico automaticamente prenderà riprendere la vita ok spero che il video vi sia piaciuto se avete problemi link almeno qua comunque il tutorial è solo per android perché su iphone non mi pare che dia questi problemi si la so cosa devo fare noi ci vediamo la prossima è bella